Amici di Oliveri Aperti, Mozart in mezzo agli olivi non l'avevo mai sentito, restate connessi. Mozart tra gli olivi, Portofino sullo sfondo, Giubatta io mi fermo qua. Ciao Leonardo, vieni con me che ti ci porto io a vedere Portofino e a sentire Mozart come si deve. Abbiamo l'olio, abbiamo il vino e abbiamo il miele. Chi viene viene accompagnato qui nel nostro oliveto di Mozart per far vedere le tecniche di coltivazione e poi accompagneremo i nostri amici in frantoio, faremo assaggiare l'olio di oliva dopo. Questa è la targa di Olivetti Aperti, non è la musica di Mozart ma è comunque un'opera d'arte. Amici di Olivetti Aperti, 18 e 19 giugno, non mancate. Ciao! Ciao!